Buonasera, allora di solito non sono per niente emozionata quando parlo delle mie cose, oggi sono un po' emozionata, devo essere sincera e quindi se faccio cose strane non preoccupatevi, è tutto nella norma, io sono una persona emotiva e ci sono alcuni libri che mi rendono più emotiva di altri. Comunque io sono Veragheno, per chi non mi conoscesse, sociolinguista, in questo caso partner in crime della qui presente Esperance a Cusumana, ho detto bene alla prima, mi sono esercitata allo specchio questa mattina, perché quando poi uno è emozionato sbaglia anche più facilmente, ma del resto io sono Geno, Geno, Gemon, quindi ho varie, sì sì, ho anch'io varie personalità. Siamo qui per parlare di questo libro dal titolo Tutta intera, appena uscito per Einaudi, che ho riletto questa mattina in treno mentre arrivavo da Firenze, con grande rabbia. Ho riletto con grande rabbia, nel senso che ogni tanto lo sbattevo anche sul tavolino del treno nella generale perplessità delle persone che viaggiavano attorno a me. Perché con grande rabbia? Allora io mi occupo di sociolinguistica, io sono una sociolinguista e da diversi anni mi occupo di questioni di cosiddetta diversity and inclusion, diversità e inclusione per gli italofoni. In tutto l'ambito delle varie diversità di cui mi occupo, anche se non è il mio ambito primario, ovviamente mi occupo anche della questione etnica e quindi della diversità etnica. Cosa vuol dire essere una persona straniera o di origini straniere in un paese come l'Italia? Quello che ho imparato nel corso degli ultimi anni occupandomi del tema è che spesso manca una voce fondamentale, che è quella dei diretti interessati. Un po' di tempo fa in un incontro con Jarra Khan, Jarra Khan mi disse una cosa che mi ha colpito molto, mi colpi molto, ossia spesso viene detto bisogna dare voce a chi non ha voce e lei ha detto, in risposta a questo luogo comune, il problema non è che non abbiamo voce, il problema è che non ci viene dato spazio per manifestare questa voce, per farla sentire. Perché? Perché comunque il sistema dei media e anche insomma il sistema che ruota attorno ai mezzi di comunicazione di massa è ancora saldamente in mano a certe potenze e se viene passato il microfono viene passato in modalità molto controllata. Quindi succede quella che si chiama la tokenizzazione, no? Se avete presente quello che è successo, prego? Tokenizzazione, token come gettone, no? La gettonificazione, per cui non è che invito te perché sei brava, invito te perché sei nera, quel genere di cose lì. Per questo quando ho aperto il libro di Esperanzi io non sapevo esattamente cosa aspettarmi, ti conosco per il lavoro che fai online, per le cose, per il modo in cui ti esponi e così via, ma non mi immaginavo così tanta potenza. Cioè sono arrivata senza, possibilmente senza preconcetti ma anche senza attese e ho detto vediamo che cosa ha fatto questa giovane donna, nera, italiana, scrittrice, attivista, militante, mediamente incazzata perché, cioè ti vedo, no? Quando ti seguo online e vedo le cose che fai. Tutta intera è un libro che mi fa imbarazzare molto in quanto detentrice di un privilegio per cui io non ho fatto niente che è quello di essere nata in questo paese, anzi in realtà io sono nata in Ungheria, ma insomma essere cresciuta in questo paese, di essere chiara, di rientrare per moltissimi versi nel canone di normalità che a quanto pare è abbastanza importante nella nostra società. Nel libro la protagonista, come la scrittrice, è una giovane donna nera, nel libro è una donna, una ragazza nera adottata, con un nome e un cognome italiani, ma ovviamente questo non basta per renderla italiana, perché qui stiamo parlando di una persona che la sua diversità, sempre da un punto di vista molto parziale, se la porta in faccia. Prima di entrare in sala parlavo con Esperanz del fatto che mia madre è ungherese, ha un nome e un cognome ungheresi, però ovviamente è una signora di pelle chiara, che nasconde quindi la sua stranieritudine finché non va in qualche ufficio e presenta i suoi documenti. In quel momento scatta una cosa singolare, le si dà automaticamente del tu. E ovviamente tutte le volte mia madre si adombra, dato che non solo vive in Italia da 50 anni, ma è anche laureata in italiano, per cui parla italiano meglio della maggior parte degli italiani. Di solito esordisce con un italiano piuttosto forbito, ursu, in modo che la persona dall'altra parte si renda conto dell'errore di valutazione che ha fatto. L'ho presa un po' larga. Però volevo comunicarvi una parte del primo sentimento che io ho sentito quando ho aperto questo libro e che ogni pagina quasi una volontà di espiazione, di una facilità esistenziale in Italia che non ho fatto nulla di specifico per meritarmi e che non è così diffusa come si potrebbe pensare. Quindi partirei da questo. Da dove viene questo libro? Come mai si chiama tutta intera? Che cosa hai provato mentre lo scrivevi? Cioè se sarai, io non so quando scrivo almeno me lo chiedo, mi chiedo cosa voglio comunicare al mio possibile lettore. Che cosa volevi comunicare con questo libro? Sono già tre domande, possiamo stare qui fino a domani mattina. Grazie Vera, grazie a tutti e a tutti per questa prima presentazione a casa perché anche questa è una cosa che ha definito questo libro, il fatto di averlo scritto qui a Torino che è il posto che ho scelto essere casa mia. Allora, questo libro nasce nel 2016-17 e nasce con una parola che tu hai già usato che è la rabbia. Questo libro nasce con una quantità di rabbia infinita che ho dovuto trasformare altrimenti non sarei sopravvissuta e non sarebbe neanche nato. Però è stato un processo molto difficile, è stato un processo inizialmente estremamente solitario e a un certo punto poi ho dovuto condividere questa rabbia esattamente come mi capita con tantissime altre cose. Scrivere questo libro è stato riuscire a capire prima di tutto che cosa volessi da me ma soprattutto che cosa volevo dire, qual era il mio intento perché proprio come ci dicevamo prima la mia esistenza ma come l'esistenza di tantissime altre persone è piena di stratificazioni, è piena di domande, è piena di conflitti ed è piena di limiti che si incontrano ogni volta che si esce dalla porta di casa e quindi ho dovuto cercare di concentrarmi sulle cose che sentivo più forti e trasformarle in qualche modo anche in letteratura camuffandole, cambiandole e rendendole anche accessibili perché anche quello è stato un passaggio difficile. Quando mi hanno chiesto la settimana scorsa il titolo Tutta Intera la mia risposta molto sincera è stata perché sono a pezzi ma sono a pezzi nel senso che la mia identità, il mio senso di appartenenza, la mia storia e anche appunto quella collettiva di chi ha background migratorio è fatta di tanti pezzi e ogni giorno bisogna trovare un modo per tenerli tutti quanti e quindi Tutta Intera per me era un'aspirazione, per me era una speranza ma è anche tutto il viaggio che uno deve fare per riuscire ad arrivare non tanto alla risoluzione, non tanto all'obiettivo ma la comprensione che è quella la direzione in qualche modo. La scrittura è stata molto solitaria ma poi la cosa straordinaria è stata che senza rendermene conto e poi ovviamente elaborando tutto questo senza le persone della mia vita, di questa vita a Torino ma anche delle vite precedenti non poteva essere tant'è che appunto le ho inserite tutte quante senza dimenticarne neanche una per fortuna nei ringraziamenti perché senza queste persone non avrei scritto questa storia. Si l'ha notata la quantità di ringraziamenti, ci sono dei lunghissimi ringraziamenti collettivi insomma persona per persona che danno, allora io leggo sempre i ringraziamenti perché ti danno una prospettiva sul modo in cui nasce il libro. Io dentro al personaggio della protagonista nella tua voce insomma anche ho sentito molte voci, ho sentito una stratificazione perché in realtà poi magari sto sbagliando tutto però ti dico la mia lettura del libro. C'è una protagonista Sara che però è quasi collaterale perché in realtà io questo libro lo vivo come un viaggio di Sara alla ricerca di ciò che lei è perché comunque lei è una privilegiata, cioè ha potuto studiare, è cresciuta in una famiglia che la ama, che la amava e che la ama anche se poi ovviamente anche questa relazione non è così automatica perché non è che siccome un figlio viene adottato automaticamente tutto funziona, no? Cioè uno poi si fa delle domande esattamente come con i genitori di sangue, no? Voglio dire non tutte le, non c'è, non può ruotare tutto al concetto della gratitudine, grazie mi avete salvato e anche questo secondo me è molto interessante e poi casomai ci torniamo. Però Sara è una che può studiare anche se molto presto le capita una cosa simile a racconti che ho sentito anche da altre persone di background migratorio, leggo due, una frase, la professoressa di inglese mi fa i complimenti per l'ultimo compito, brava, dice, sei proprio migliorata, peccato che quelli come te non ci vanno al liceo e c'è questo quelli come te che ha una specie di enorme neon, no? Molto del libro è raccontato in questo modo, è così, è collaterale, sono piccoli giudizi che avvelenano la quotidianità, tu sei come, te ti hanno preso perché i genitori non potevano avere figli, non mi ricordo esattamente come lo dici, ma poi ti possono rendere, se non sei all'altezza delle aspettative ti possono rendere, ma in tutto questo non è che Sara si fa delle domande direttamente chi sono, da dove vengo, il tutto viene scatenato da un incontro, un incontro collettivo, perché Sara che può avere, che ha studiato eccetera eccetera, a un certo punto si ritrova nella situazione di fare da insegnante di pomeridiana, di un corso pomeridiano a un gruppo di ragazzini e ragazzine di un quartiere disagiato, poi se vuoi dare più particolari lo fai tu, io non voglio spoilerare niente, non voglio rovinare niente, quindi rimango sul vago, ed è un gruppo misto, cioè ci sono marocchini, ci sono ucraini, ci sono rumeni, ci sono forse anche albanesi, non mi ricordo, però ci sono questi ragazzini e queste ragazzine e fra l'altro parlano ognuno la loro lingua e quindi c'è anche questa grande commissione linguistica. Idealmente, secondo me dal punto di vista del, come si può dire, di questa idea del bianco, che secondo me è ben rappresentata dalla preside, accostare una insegnante di background migratorio a questi ragazzini di background migratorio, shakerandoli insieme doveva avvenire il miracolo. Sara avrebbe capito di cosa avevano bisogno questi ragazzini, ovviamente la cosa non è affatto così lineare, è proprio attraverso questa relazione molto tesa, almeno inizialmente, ma quasi fino alla fine, che Sara scopre molte cose su di sé. Per esempio, puntini puntini, te la lascio aperta così, vai dove vuoi. Quando ho capito che nella tesura, nella scrittura avevo bisogno di, appunto, creare un conflitto, una delle cose che è ritornata alla mia mente è stata la mia formazione letteraria, una formazione letteraria che, come dico e ripeto spesso, è stata prevalentemente bianca. E nella formazione letteraria, ma anche dell'audiovisivo, una delle immagini più caratteristiche dell'incontro di due mondi, soprattutto se due mondi avevano background migratorio diverso, avevano anche una situazione di classe diversa, avveniva sempre con il bianco che incontra il nero ed entrambi imparano qualcosa. E da lì c'è questo miracolo, c'è questo insegnamento reciproco, c'è questa unione e questa visione salvifica finale. E quando io ho iniziato a raccontare di Sara, io la immaginavo così perché mi ha ricordato anche come io mi immaginavo in un certo senso. Il passaggio cruciale che mi ha richiesto tantissimi esercizi è stato quello di fare un passo di lato. Quindi prendere la caratteristica fisica di primo impatto di Sara, che è il suo essere nero, spostarla e invece concentrarsi sul fatto che Sara è stata cresciuta, amata, educata e messa nel mondo come persona bianca. La potenza dell'amore, la potenza dell'educazione, il valore della cultura e anche la protezione del mondo di provincia le hanno permesso di andare nel mondo spensierata senza alcun tipo di problema perché sapeva dove poteva tornare e dove tornava nessuno parlava o nessuno diceva che il suo colore di pelle poteva renderla diversa, inferiore, anzi l'amore era più forte. E proprio per questo l'idea di metterla a confronto con invece un gruppo di ragazzini e ragazzine che è consapevole in maniera anche dura forse a volte, ma è più che consapevole della propria identità e dei limiti che quell'identità gli pone davanti tutta la vita. Per me è stato il punto focale di questo incontro perché sarebbe stato troppo facile e non sarebbe stato onesto intellettualmente nei confronti di quello di cui parlo, della rappresentazione e di tutto quanto, però sarebbe stato molto più facile prendere un insegnante bianco e metterlo in una classe di ragazzini di seconda generazione come li chiamano. Sarebbe stato lineare forse appunto. Avresti fatto l'attimo fuggente in salsa internazionale. Esatto, esatto. Però a me le cose facili non piacciono o comunque non riesco a stare dentro le cose facili e riesco a stare solamente nella fatica della complessità a farmi domande e spesso neanche a trovare risposte. Mi viene molto difficile. Però mettere questo personaggio di Sara, metterla in mezzo a chi l'identità la conosce, l'appartenenza la riconosce, ma soprattutto sa perché resta e ricorda da dove viene, era fondamentale per mandarle in crisi. Mandarle in crisi in una maniera poi molto lenta, molto faticosa anche per lei da riconoscere e quindi per me è stato anche importante rispetto a questo conflitto che lei incomincia a vivere in una maniera molto pesante, mettere accanto quelle che dicevi tu essere le scene della sua crescita, della sua infanzia, perché Sara non è stata esente dal razzismo, non è stata esente dalla discriminazione, l'ha vissuta, ma non è riuscita a registrarla. Non l'ha registrata fino a quando non si è trovata in un momento di crisi. Lei, come scrivo, era convinta di trovare questi ragazzini pronti a pendere dalle sue labbra e invece si ritrova qualcuno che alza dei muri e lei di fronte a questi muri non sa cosa fare perché non ha la grammatica di quella parte di mondo che da una parte sembra appartenerle ma in verità deve conoscere da capo esattamente come se stessa. Perché i vari ragazzini e le ragazzine non sono accomunati dalla stessa diversità, sono portatori di un mazzetto di diversità, cioè in una prospettiva intersezionale mi viene da dire hanno il denominatore comune di essere disagiati, cioè di venire da un background disagiato al di là del fatto di essere chi ucraino, chi marocchino o altro insomma da tutte le varie provenienze diciamo migratorie e quindi non è automatico cavolo che si accosti dei migranti o dei figli migranti fra di loro questi si vogliono bene, è incredibile. Tanto è vero che non credo che sia casuale che nelle scene dell'infanzia, insomma della giovinezza, insomma dell'infanzia e adolescenza di Sara uno dei suoi nemici più giurati è un altro ragazzino adottato di background diverso se ho capito bene asiatico, per cui c'è anche questa cosa interessante che l'esplicitazione del razzismo, tu non sei come gli altri, non pensare di essere come gli altri non viene dai bianchi in questo caso, cioè il suo peggior perpetratore è questo ragazzino asiatico che però secondo molte persone avrebbe dovuto essere automaticamente amico di Sara. Sì 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 per me era importante anche raccontare questo, la pluralità all'interno delle esperienze di persone con background migratorio, spesso troppo spesso che con i miei amici, le mie amiche ci ritroviamo a essere accomunati rispetto alle nostre esperienze di vita solamente per lo stesso colore della pelle o per il cognome esotico, quando invece siamo persone, individui a sé stanti ma soprattutto ognuno di noi ha la le sue sfaccettature, le sue esperienze di vita e il proprio grado di elaborazione e quindi era interessante per me davvero di nuovo fare un passo in più, c'è il bianco, c'è il nero, i neri non sono tutti uguali e all'interno di questa pluralità ci possono essere dei dissidi interni e anche delle coalizioni e questo l'ho voluto riportare anche appunto nell'esperienza dell'adozione internazionale perché spesso al di là del fatto che anche qua le voci delle persone adottate vengono silenziate, sono ancora molto silenziate nonostante la mia generazione di adottati abbia trent'anni e di cose da dire ne ha molte, l'altro errore che viene fatto anche lì è quello di portare un'unica storia, un'unica storia sempre con il peso della gratitudine, con la stessa identica narrazione legata alle origini, legata all'amore nei confronti della famiglia ma legata anche a un'assenza totale di narrazione rispetto a quello che succede dopo perché spesso si racconta dei genitori, della coppia di genitori che vuole creare una famiglia, della coppia di genitori che è piena, disposta, disponibile a dare amore ed è il momento dell'incontro, dell'adozione, solo che l'adozione dura tutta la vita e questo percorso è un percorso fatto di alti e di bassi e gli alti e bassi per gli adottati possono essere completamente diversi e per me era importante portare due voci, due voci che potessero quantomeno inglobare il più possibile il positivo e il negativo che fanno parte in ognuno di noi di questo tipo di esperienza, poi ognuno fa quello che vuole, ognuno riesce ad affrontare come riesce, come può questa esperienza però bisogna sempre ricordare che ci sono le luci e le ombre e quelle convivono dentro di te e solo tu puoi trovare il modo per diventare qualcuno a prescindere da questo. Sì, ho la mano occupata, se no battevo le mani anch'io. Per farvi un esempio plastico del tipo di appiattimento di cui sta parlando Esperanza leggo di nuovo un pezzettino, detto con le migliori intenzioni, tu lo sai che anche lui è stato adottato, magari ha bisogno di un'amica come te Sara, un'amica con cui ha in comune una cosa così bella, non è una cosa bella, che cosa hai detto? Scherzo aggiungo subito, poi scappo, non so come si tiene tra le mani la verità, se mi cade si rompe. Io qui ho bestemmiato in aramaico in mezzo al vagone pieno perché mi ha colpito molto, insomma una frase mi ha colpito molto e mi ha fatto pensare a un libro che non so se hai letto, ma te lo consiglio così in presa diretta, che si chiama Lingua e Essere di un'autrice tedesca di origine turca, si chiama Kübra Gümüşay e lei parla del Museo della Lingua e dice nel Museo della Lingua ci sono due tipi di persone, ci sono i visitatori che sono gli innominati, che non hanno bisogno di cartellini perché sono i normali e quindi, fra virgolette, nelle teche ci sono i diversi e i diversi devono stare fermi nelle teche, quindi hanno i loro cartellini, il migrante, la nera, la lesbica, la persona con disabilità, la persona con neurodiversità e non solo devono stare fermi nelle teche che i normali hanno previsto per loro, ma devono anche corrispondere all'etichetta. Uno dei grandi errori, secondo me, di visione proprio, di modo di vedere la diversità che commette in questo momento la nostra società a mio avviso, è quello di appiattire ogni tipo di diversità su un modello, quindi tu non sei Esperance, tu sei la nera, un'altra persona non è… io sono la femminista, non sono nient'altro, vengo, come dire, riassunta in questa etichetta e secondo me il discorso che viene fatto con la migliore delle intenzioni, cioè anche lui ha questa bellissima esperienza dell'adozione, va un po' in questa direzione di tentare di riassumerti all'interno dell'etichetta che in questo caso, nel caso della protagonista, ovviamente è la bambina adottata. Come dicevi tu dietro c'è un mondo di complessità e che non c'entra, e che due persone adottate magari non c'entrano nulla dal punto di vista del background culturale, della provenienza, ma anche dell'interesse a frequentarsi, non è che se tu metti insieme le persone che a te sembrano simili avviene per forza il miracolo. Anche perché poi non conosci quali sono le conseguenze di quell'incontro forzato e quelle conseguenze creano anche delle crepe o comunque mettono delle basi rispetto a quella che è la tua identità e secondo me è importante. Anche ricordarsi che non siamo, come dico sempre, barattoli di marmellata, cioè non puoi metterci l'etichetta e pensare che basti così e invece è una lotta da portare avanti quotidianamente, ma penso che tu lo sappia meglio di me. No, che è un po' il limite dell'idea dell'inclusività per me, no? Cioè, come dice il mio sodale Fabrizio Canfora, il problema di pensare nell'ottica di inclusività è che io, normale, definisco te diversa e poi decido quanto e in che modo includerti. Una delle cose più idiote che secondo me si possono dire è ma per me siamo tutti uguali. In realtà non è vero, cioè soprattutto chi la propria diversità se la porta in faccia, che sia perché è su una carrozzina o perché ha una pelle di una nuance diversa da quella standard che poi bisognerebbe capire qual è o qualsiasi altra cosa. Ecco, non è vero che non si vede la differenza. Io penso che una delle cose che traspare dalla storia di Sara e forse dalla tua è che se tu si vede che sei diversa non si può far finta che tu sia uguale. Non è quello il modo per risolvere il problema della convivenza e delle differenze. Ma sì perché la collettività, soprattutto la collettività privilegiata, ti porta ad annullarti, a nasconderti, a privarti delle tue differenze e siamo tutti uguali, non vedo nessun colore. Sono quelle frasi che dimostrano quanto possa essere più semplice vedere il mondo così perché la gente rifiuta la fatica, la fatica di stare in mezzo a quel tipo di complessità come dicevo prima, ma ancora di più la fatica di fare il percorso, in questo caso antirazzista, che ti porta a dover guardare i tuoi privilegi che non sono delle cose per cui devi sentirti in colpa ma sono delle cose che ti appartengono e in cui ogni giorno tu le sfrutti portando delle conseguenze sulla vita degli altri senza rendertene conto. E quindi nel momento in cui sono arrivate delle voci che hanno incominciato a dirti non è vero, non siamo tutti uguali, non è assolutamente vero il fastidio, il disagio, la vulnerabilità che vengono fuori alzano automaticamente dei muri. Ecco la possibilità di stare a qualche centimetro da quei muri e vedere quando mai crolleranno ed esserci e stare lì nel mio caso con delle storie o con la voce che ho è la possibilità che ho trovato per riuscire a vedere poi cosa c'è dall'altra parte del muro e magari appunto costruire qualcosa d'altro di più utile insieme. Qual è il problema della relazione di Sara con questi ragazzini? Cioè io che ho letto il libro lo so però se tu dovessi far intuire da dove nascono le tensioni? E' una domanda difficile. Sì sì no, è che questi ragazzini, queste ragazzine la mettono di fronte a quello che non è e per cui per tutta la vita ha lottato. Sara è disperatamente bisognosa dell'amore della sua comunità, dalla sua famiglia e fa di tutto, fa veramente di tutto perché non c'è nient'altro che vuole se non essere esattamente come il mondo, le persone in cui è cresciuta e questo desiderio disperato la porta ovviamente a cercare di seguire il più possibile anche quelle che sono le aspirazioni, i desideri delle persone con cui cresce, in questo caso la professione del padre. Lei si rende conto che vuole essere come lui, lo ammira, vede in lui veramente tutto il possibile, tutto l'amore possibile. Questi ragazzini non le danno tregua, ma non le danno tregua perché ogni giorno, ribadisco, sono fieri di quello che sono, sono orgogliosi, non hanno alcun tipo di dubbio. Poi la vita gli si mette in mezzo, i limiti, la discriminazione, il disagio, però loro sanno chi sono e questa certezza, queste radici così profonde nel terreno fanno tremare tutto quello che sarà perché sarà appunto come metaforicamente dico è un innesto e gli innesti a volte possono essere fragili e lei si rende conto di essere estremamente fragile e queste vite non la lasciano respirare rispetto a tutto quello che ha cercato e tentato di essere ma alla fine, per poi rendersi conto alla fine che non c'era uscita. Ho la sensazione che soprattutto all'inizio lei gli odi questi ragazzini perché mettono in crisi delle sue certezze, la fanno forse anche guardarsi allo specchio in una maniera nuova rispetto a prima e immagino, almeno io così li ho vissuti, questi inserti di vita da bambina, sono quei ricordi che lei stessa ritira fuori creando una sorta di filo rosso di esperienze che forse prima non aveva mai messo insieme che in realtà già minavano la sua identità in corso d'opera. Per esempio c'è un capitolo, l'undicesimo, che inizia con questo dialogo, a scuola dicono che non ho la faccia da Sara, chi lo dice? Denise, devi dire a Denise che i nomi non si danno in base alla faccia, voi perché mi avete chiamata così? Era il nome perfetto quando sei arrivata da noi, non ne avevo uno prima? Tu eri Sara anche prima, solo che nessuno lo diceva. Pa, dimmi Sara nostra, al posto di faccia volevo dire pelle. Allora io mi immagino una Sara grande, una Sara giovane, adulta, che si ricorda questo episodio e poi piano piano tira fuori dai cassettini dei ricordi tutti gli episodi di questo tipo che mettono in crisi in realtà quello che lei è e questa cosa lei la scopre rispecchiandosi nel disagio e nella malevolenza di questi ragazzini che sono stronzi diciamocelo soprattutto, cioè è un termine molto raffinato, ma soprattutto all'inizio sono proprio antagonisti. Sì sì, se c'è una cosa che ho imparato soprattutto anche nel confronto con altre persone razzializzate della mia generazione, perché quella degli anni 90 è una generazione diversa da quella di adesso, è stato che per diventare adulti siamo stati obbligati a mettere da parte tante cose che ci sono capitate, siamo stati obbligati a nascondere, a mettere nei cassetti tante frasi, tante scene che abbiamo vissuto e tante anche sensazioni sotterranee, solo che le cose non è che spariscono e il corpo non dimentica. Quindi ci sono stati dei casi, anche per me personalmente, in cui a un certo punto della mia vita da grande, quando ero convinta di essere completamente libera, no? O comunque usando quel termine terribile, completamente integrata, delle folate, esattamente delle ondate di ricordi mi sono venuti a galla e quello è stato l'inizio di elaborazione di quella che è stato il mio processo di crescita in un paese che non mi ha mai accettato per quello che ero. Ci sono voluti anni, queste ondate sono state forti, ci sono ancora, anche perché poi si aggiungono quello che succede nella quotidianità, quindi diciamo che le cose si accavalla, no? Però mi hanno permesso di riguardare e di rivedere, no? E quindi volevo permettere anche a Sara di rivivere la sua infanzia, di rivivere la sua crescita, ma soprattutto il rapporto all'interno della sua famiglia, no? Che ha sempre immaginato meravigliosa, intoccabile, perfetta, piena d'amore. Mettersi a confronto con questo suo, con questo suo vissuto, riguardarlo con uno sguardo critico anche, ma soprattutto feroce, perché quei ragazzini ne passano anche quel tipo di ferocia, la porta a una crisi che poi comporta una spaccatura, perché una spaccatura è inevitabile che ci sia, poi si può ricucire, si può ricostruire, ma una spaccatura deve esserci se vuoi diventare e essere appunto presente a te stesso, a te stessa. Che cosa succede dentro Sara? Diciamo quando c'è questa esplosione nella relazione con questi ragazzini, in realtà non è esattamente che c'è una risoluzione, però quello che io vedo andando verso la fine del libro è una specie di inizio di un percorso, di autodeterminazione, di comprensione di sé e anche di rimessa insieme dei pezzi, per l'appunto il tutto intera che dici tu. Intendo dire che non c'è proprio l'happy ending, nel senso che sono tutti felici e contenti, ma c'è un anelito di speranza in un certo senso e da dove viene questo senso di speranza? Da dove viene? La speranza viene dalla scelta. Poter scegliere forse è una delle cose più potenti che abbiamo a disposizione e Sara non sapeva di poter scegliere, perché se nasci o comunque se cresci in un ambiente di provincia, in un ambiente in cui sei l'unica persona nera, in un ambiente in cui vieni messo sul palmo di una mano, viene amato, riempito di un amore che appunto come il nomignolo che gli danno i suoi genitori, Sara nostra, diventa anche un po' una catena, non sai che puoi liberarti. Attraversando il fiume, saltando il fiume, andando in un posto che è vicinissimo geograficamente, ma è lontanissimo mentalmente, emotivamente, Sara si rende conto che può dire basta e si rende conto che può dire questa sono io e devo incominciare a guardarmi per tutto quello che sono e non solamente in alcune parti. E questo ovviamente comporta, ribadisco, delle scelte. Scegliere con chi stare, scegliere da che parte stare, ma soprattutto riuscire a ricordarsi che quello che ti fa male ha un valore, ha una validità. E anche se dall'altra parte sembra una cosa minuscola, sembra una cosa impercettibile, insospettabile, se tu lo senti, se senti che fa male, devi far valere quel dolore che hai perché la tua esistenza e i tuoi sentimenti sono e devono essere la cosa più importante. Lo sentivo! A me ha colpito molto anche il senso di disinteresse della società nei confronti dei ragazzini e delle ragazzine con cui Sara ha a che fare. A parte che varia gente, sempre con le migliori intenzioni mi chiede che ci fai con quelle lì, una perdita di tempo più o meno, in maniera più o meno diretta, ma è tutta la società, quella micro società, diciamo attorno a quei ragazzini, che non li considera esseri umani di pregio, da nessun punto di vista. Sono un po', sono quasi destinati a, come dire, sono predestinati a una vita da reietti, questa è un po' la sensazione. E anche questo non viene detto in maniera esplicita. Sara lo scopre un po' strada facendo, e noi che leggiamo lo scopriamo strada facendo, ed è una delle cose che mi creava imbarazzo e senso di colpa, che è vero. Cioè, purtroppo, io penso che la nostra società spesso ritenga di essere molto più aperta nei confronti delle diversità e nei confronti delle migrazioni di quanto non pensi, cioè perlomeno, per esempio, voi persone che siete venute a assistere a una presentazione di questo tipo, poi è chiaro che c'è anche gente che non gliene frega nulla e vorrebbe chiudere i confini, ma insomma, lasciamoli fuori quelli, almeno da questa sala. Ma il punto è che anche quando hai le migliori intenzioni, in realtà, offri molto spesso delle cure palliative, ma non offri veramente la possibilità di vivere a pieno in questa società. Cioè, si rimane comunque ai margini. E per Sara questo è abbastanza traumatico, perché lei invece viene da una situazione molto più bene, no? Cioè, da un'elite e si scontra con questi ragazzi e ragazze che non sono molto diversi in fondo da lei, ma in qualche modo hanno un destino già scritto in qualche modo, a cui Sara però tenta di ribellarsi e di farli ribellare in un certo senso, cioè di creare dei legami. Sì, io ho scelto anche di raccontare, di narrare un microcosmo proprio per questo, nel senso che nel momento in cui tramite saggi, tramite appunto incontri, l'attivismo, ho preso consapevolezza della realtà del razzismo istituzionalizzato, una radice di rabbia si è impiantata nella mia pancia e costantemente, quotidianamente lì, perché è sotto gli occhi di tutti, questo razzismo istituzionalizzato continua ad essere e nessuno lo ferma, ma c'è e risuonano nelle voci, nelle storie che vengono riportate ovviamente poi da realtà piccole, dai collettivi, dagli attivisti o nelle storie che vengono scritte da chi vive queste cose in prima persona. All'interno appunto di Basilici, che è questa realtà che appunto viene narrata un po' come la periferia, il ghetto, c'è questa realtà ed è una realtà portata avanti e narrata da questi ragazzini proprio con una rassegnazione che fa male e Sara di fronte a questa rassegnazione è proprio sconvolta perché lei è stata cresciuta all'interno non solo dell'amore ma anche della cultura, la cultura che come dico sempre è una delle cose più belle, una delle cose più importanti, ma è anche forse una delle cose a cui è più difficile accedere per davvero in Italia, soprattutto appunto se è una storia di background migratorio. E quindi mi piaceva ed era importante per me fare questo confronto e portare questa rivelazione, togliere il velo dallo sguardo di Sara e toglierlo in una maniera molto netta perché lei subito si rende conto che c'è qualcosa che non va e quando anche si confronta con chi fondamentalmente comanda, con chi dovrebbe controllare, ha delle risposte che sono cariche di sufficienza ma anche cariche di un disinteresse veramente atroce, veramente atroce che non ho voluto ovviamente marcare ma che è lì, è presente ed è presente anche nella nostra quotidianità in quel modo lì, che sembra leggero, passa in fretta, te ne dimentichi subito ma con le vite esistono. Ed è una cosa che poi ho voluto collegare a un altro passaggio importante. Questi ragazzini sono disillusi però sono ragazzini e quindi quando tu sei adolescente, quando ancora stai lavorando la tua identità, comunque la speranza fa parte di te, la voglia di rivalsa fa parte di te e quindi io a questi ragazzini a un certo punto cerco di mettergli in mano il futuro. Io lo metto in mano in una maniera forse anche sbagliata perché comunque loro agiscono, prendono una scelta, decidono di superare il fiume, di partecipare alla vita della città, del posto, della vera comunità prendendolo sarà perché sentono che hanno il diritto che faccia parte di loro, lo fanno nel modo più sbagliato possibile ma per me quel senso di rivalsa, quella luce, quella fiamma di dire questa cosa mi appartiene e me la vado a prendere era un modo per dire ok, la situazione è questa, la condizione è veramente brutta ma c'è quel fuoco e resta acceso, continuano magari a provare a spegnerlo ma continua a restare acceso in qualche modo. Verissimo, stavo riflettendo, le rivoluzioni non possono essere sempre gentili, c'è anche il momento in cui bisogna rovesciare i tavoli e anche dar fuoco alle macchine e essere scomodi, mi viene un po' in mente Black Lives Matter e le discussioni sul, se fosse stato il caso di reagire così, no? Eh ma insomma loro poi sono passati dalla parte del torto con le violenze, no? Ci sono dei momenti in cui bisogna battere il pugno sul tavolo, io lo dico per le mie cose, la militanza non può essere sempre gentile, coccolosa e zuccherosa, ci sono anche dei momenti in cui è giusto perdere la pazienza perché? Perché quello che magari dall'altra parte sembra un moto di stizza può fare la differenza nella qualità della vita futura, cioè a volte bisogna far vedere noi ci siamo, noi siamo qui e non valiamo meno, no? E questo secondo me è importante da sottolineare. Volevo farti altre due domande poi in realtà ci siamo magnati tre quarti d'ora così. Una prima domanda è questa, io intravedo anche delle mancanze in assoluta buona fede da parte dei genitori di Sara. Non è mai esplicitata questa cosa, non è che vengono colpevolizzati, però fra le righe, come dire, è come se non avessero lavorato sulla complessità, cioè questo era un po' il mio giudizio, ma non è un giudizio di merito, è quello che io leggo dentro al testo, poi non so quanto è inventato, quanto questo richiama delle cose della tua vita, non so niente, quindi non mi esprimo. Secondo te cosa avrebbero potuto fare diversamente? Se c'è qualcuno che è in una situazione simile, che magari hai dei figli e delle figlie adottate e adottate, dove può stare più attento per cercare di rendere la sua presenza nella società di oggi meno traumatica? Se ti senti di dare un consiglio? Rispetto a questa cosa, quando anche vado a parlare con i genitori adottivi, io dico una cosa che spesso causa delle reazioni molto forti, però è forse la cosa più vera che posso dire, è l'amore non basta, ed è durissimo d'accettare, d'accogliere da genitore, ma è ancora più duro d'accogliere e d'accettare da figlio, perché io ho deciso di raccontare questa storia e Sara viene adottata negli anni 90, i genitori adottivi di adesso hanno una quantità di strumenti che se li sognavano, quelli degli anni 90, e soprattutto i genitori di adesso hanno vissuto un trascorso storico-politico a cui non possono essere indifferenti. Quello che è successo nel 2018 e tutto quello che ovviamente poi è stato conseguenzale ha aperto gli occhi, per chi si mette a confronto con la diversità ha aperto gli occhi. I genitori di Sara non avevano gli strumenti, ho deciso di raccontarli nella cosa più bella possibile che c'è nella genitorialità, che è l'amore, e ho deciso di mettere tutto l'amore possibile, ed è proprio per questo che io continuo a sottolineare che questa storia non è la mia storia, è una storia di fiction, perché la fatica, l'impegno, il dolore che ho attraversato per riuscire a scrivere quel tipo di amore sono stati tipo enormi e sono stati molto pesanti ma anche estremamente liberatori, poter immaginare un amore che non ho avuto, poterlo mettere, poterlo rileggere. Io spesso ho riletto alcuni passaggi anche di quelli che appunto sono stati eliminati perché per me appunto, come dico sempre, la scrittura, la lettura, l'immaginazione e la creatività sono stati la mia salvezza, la mia famiglia, la mia educazione, educazione anche affettiva. E volevo inglobare, volevo soffocare quasi Sara di questo amore, di questa presenza, di questa cura pratica, fisica, di questa costante risposta del ci siamo, sei nostra, Sara nostra per me era proprio il termine adatto con cui questi genitori incatenano e uso di nuovo questa parola, questa vita a sé, la riempiono di tutto ciò che è possibile. Però ribadisco, l'amore non basta perché c'è bisogno anche di uno studio, c'è bisogno anche di un rendersi conto che ci sarà sempre un limite. Se tu vuoi adottare un bambino in un'adozione internazionale e interraziale, tu avrai sempre un limite e dovrai accogliere il fatto che certe cose non le capirai mai. Dovrai accogliere il fatto che per quanto potrai studiare, per quanto potrai frequentare la comunità di origine, per quanto potrai tornare nel paese di origine del bambino, della bambina, tutti gli anni, tutti i mesi, qualcosa non riuscirai mai a darglielo e non riuscirai mai a capirlo. Ed è una crepa gigante, ed è una sofferenza enorme, ma di fronte all'atto che scegli di fare, perché poi voglio sempre ricordare che sono i genitori che scelgono di adottare, i bambini non scelgono niente e quindi già c'è una situazione di squilibrio, nell'atto che tu scegli di mettere a disposizione, ecco, forse devi anche ricordarti che avrai dei limiti e devi anche ricordarti che ci sono dei posti in cui non riuscirai mai ad arrivare e proprio questo ti può aiutare poi a entrare in contatto, no? Con tuo figlio o con tua figlia, perché lui a sua volta, lei a sua volta ha dei crateri, no? A cui non riuscirà mai... Dei buchi neri, direi quasi, no? Dei buchi neri, che non riuscirà mai a riempire delle domande a cui non avrà mai risposta e delle difficoltà anche rispetto ad essere una persona con nome e cognome italiano, una persona con un documento italiano, un'educazione, una cultura italiana, ma con un mondo là fuori che tutti i giorni, tutti i giorni, gli ricorda che italiano non è o pretende il fatto di dirgli che tu italiano non sei. A te quante volte succede questo? Mi dicono che non sono italiana, eh? No, di sentirti... Scusami, tranquilli, mi stai apprendendo delle coraggi, ma già a te. Dicevo, a te quante volte capita di non sentirti italiano? Non mi capita più nel momento in cui io so chi sono, però a volte ho dei dubbi, a volte ho come se tipo ci fossero delle spallate dal mondo fuori, no? Che ti fanno perdere l'equilibrio e ti dirò, a volte questa cosa arriva anche da chi non me lo aspetto e quindi è un doppio conflitto, è una doppia difficoltà nell'incedere nel mondo perché quando pensi di dire, ok, io sono qua, faccio l'attivista, scrivo libri, lavoro sulla rappresentazione e poi c'è una persona afrodiscendente che mi insulta e il mio cervello va in tilt. Io non riesco a trovare un senso per la fatica che ho fatto per arrivare alla consapevolezza, ma poi c'è la pluralità, non tutti abbiamo la stessa storia e quindi quando ti incontri in questo terreno comune che è il mondo, sono le strade, sono i quartieri, entri in conflitto con la pluralità dell'altro, anche se hai il tuo stesso colore di pelle, puoi entrare in conflitto e quindi rimescoli tutto, metti in discussione di nuovo tutto. Questa cosa è quotidiana, io ribadisco è quotidiana, ma esco, devo andare a cambiare i documenti, devo andare a comprare qualcosa in tabaccheria, prendo l'autobus, devo andare in terapia, devo andare a trovare i miei amici, passeggio con le mie amiche, vado al ristorante, io so, c'è una voce, c'è una sensazione sotto pelle che a volte combatto, altre volte no, che mi dice, che lampeggia e mi ricorda, sai che potrebbe accadere. Possono essere cose minuscole, e me le dimentico dopo cinque minuti, possono continuare a essere cose minuscole e per settimane ce le intesta. A volte ho la sensazione di non avere un attimo di pace, che non è una bella sensazione. Altre volte ho la sensazione di saper maneggiare questa cosa perché ho i libri, perché ho scelto di circondarmi di persone con cui solamente con uno sguardo posso dire, ok, sappiamo tutti e due tutti e due cosa stiamo vivendo e c'è quella solidarietà straordinaria e altre volte non ho le armi e quindi sto a casa a leggere. Grazie. Grazie.